eccomi sono in quarantena ma soltanto perché ho avuto degli amici poco prudenti e spero che riuscirò lo stesso a raccontarvi questa storia che trovo abbastanza appassionante però vorrei cominciare facendovi una domanda una domanda retorica cioè secondo voi l'italia è un paese ricco o un paese povero vi posso rispondere già direttamente io è un paese ricco ma abitato da poveri e il motivo è in quel disegnino che forse vedete accanto a me la montagna più alta che io paragonato al k2 è la ricchezza privata delle famiglie italiane la montagnetta piccola vicino che io ho scelto il monte pisanino nelle alpi apuane quello è il nostro debito pubblico e se passiamo alla slide successiva vi faccio vedere com'è divisa questa ricchezza allora la ricchezza privata in italia è grossomodo 10 mila miliardi il debito pubblico è grossomodo i 2 mila miliardi poi però questa ricchezza non è divisa equamente in nessuna parte del mondo la ricchezza è divisa equamente e in italia divisa questi sono dati dell'istat è diviso per famiglie le famiglie ricche come vedete sono quelle poi famiglie molto ricche famiglie povere famiglie molto povere ma ripeto qual è il problema il problema è esattamente questo che la ricchezza non essendo divisa equamente crea i ricchi e i poveri e la ricchezza è abbiamo sentito i precedenti relatori ne hanno parlato lungamente la ricchezza è qualcosa che si può ereditare si può sposare si può rubare ma diciamo che fondamentalmente il denaro bisognerebbe guadagnarlo lavorando col sudore della fronte come come diceva la bibbia allora vediamo come alla slide ancora successiva ecco qui abbiamo più o meno un quadro di diciamo degli stipendi un quadro degli stipendi in italia allora c'è uno stipendio medio come vedete è molto basso poi c'è una pensione media anche quella molto bassa poi c'è una soglia di povertà che poi ci verremo ci torneremo sopra ehm se voi siete sotto quella cifra lì vedete mille poco più di mille euro siete poveri poi vediamo gli stipendi dei ministri e parlamentari lo sappiamo e poi vediamo la retribuzione lorda mensile di un top manager e quindi questo già ci dà ci dà un po' l'idea no di che cosa sono i ricchi e i poveri e di com'è divisa questa ricchezza però andando avanti eh tutti sappiamo più o meno definire chi sono i ricchi e i poveri invece sono più difficili a definire ancora l'istat io l'ho tradotto in un disegnino che forse rende l'idea più delle tabelle l'istat queste sono le cifre eh eh anche l'istat usa le classifiche abcd eh assolutamente povero appena povero quasi povero non povero però vedete per essere non poveri praticamente siete sempre sullo stipendio eh insomma sono cifre molto vicine queste due no che io adesso le indico malamente perché sono a casa davanti allo schermo di un computer comunque le soglie sono tutte molto simili quindi questo è il paese dei poveri e però vediamo andiamo ancora avanti un momento allora i poveri chi sono esattamente eh chi sono i più poveri tra i poveri i mendicanti eh i precari disoccupati eh i vecchi i giovani eh tutte risposte esatte però c'è una categoria che è trasversale a tutte queste qua che le le tocca tutte diciamo ed è esattamente questo non è un paese per donne titolava un quotidiano alla stampa eh qualche giorno fa era una lunga inchiesta proprio sui temi di cui stiamo parlando stasera ehm perché eh perché le donne sono le più povere dei poveri cioè l'Oscar della povertà aspetta le donne perché eh le donne precarie guadagnano meno di un uomo precario eh le pensionate guadagnano meno di un pensionato le immigrate guadagnano meno di un uomo immigrato inoltre ci sono delle sottocategorie molto preoccupanti perché se una donna ha figli è più povera di una donna che non ha figli se una donna ha figli e ha i genitori anziani è più povera di una donna orfana e single eh e così via eh naturalmente diciamo che per cavarsela in Italia bisogna essere single orfani senza figli naturalmente e ovviamente bisogna essere maschi questo fenomeno e andiamo e ve lo spiego si chiama gender pay gap eh vuol dire differenza retributiva ecco qui ve l'ho sintetizzato le donne guadagnano in media il 20 per cento meno di un uomo per ogni cento euro guadagnati da un uomo una donna ne guadagna ottanta l'ONU lo ha definito il più grande furto della storia però è è un furto assai poco conosciuto guardate quest'altra in Italia perlomeno che negli altri paesi se ne parla molto di più guardate quest'altra quest'altra foto slide ecco questo è il manifesto di una campagna americana contro le differenze retributive di genere e la scritta significa molto semplicemente donne come un uomo ma meno costose no insomma eh ho preso come esempio l'America perché non solo è il paese dove diciamo è nato il femminismo ma è anche un paese dove si fa molta attenzione al rapporto tra lavoro e retribuzione negli Stati Uniti le persone parlano liberamente delle di del loro stipendio delle loro buste paga eh si chiede quanto guadagni si dice io guadagno tot e quindi è è un paese dove diciamo c'è c'è più trasparenza rispetto a questo problema in Italia invece come sappiamo è molto maleducato chiedere eh scusa ma tu quanto guadagni no? eh se me lo chiedo lo dico scusa ma a te che ti importa diciamo e e questo purtroppo contribuisce a creare il problema tenete conto che in Italia una donna praticamente comincia a guadagnare soltanto a fine febbraio i precedenti due mesi è come se avesse lavorato gratis adesso oggi cos'è il dieci per cui ecco tra poco cominceremo a guadagnare no? Rispetto a un uomo sempre e cosa si può fare per rimediare non è che la gente nel mondo non se ne sia mai occupato per esempio guardiamo quest'altra quest'altra foto ecco questo è un tweet che ha fatto Barack Obama ex presidente degli Stati Uniti l'ha fatto qualche giorno fa a fine gennaio in questo tweet lui ricorda la firma della sua prima legge da presidente degli Stati Uniti parliamo del 2009 e quindi appunto 13 anni fa era esattamente una legge per la parità salariale eh prende il nome da una femminista americana che ha fatto una grandissima battaglia proprio per ottenere questa legge benissimo allora questa legge è di tredici anni fa dopodiché la situazione è migliorata vediamo la prossima foto questo è una un grafico un piccolo grafico un disegnino che ha fatto il l'ufficio del lavoro americano eh come vedete per un uomo un uomo guadagna un dollaro una donna a settantaquattocentesimi quindi evidentemente non è non è servita ancora la legge malgrado ci sia appunto a battere questo questo problema ma perché questo problema è così pesante? Beh è pesante perché si porta dietro tutta una concatenazione di altri problemi eh per esempio le donne al lavoro no? Allora le donne come è noto sono più preparate più eh dati ufficiali per ogni dieci laureati sei sono donne però guarda caso per ogni cento occupati solo quarantanove sono donne no? E uno dei motivi per cui ci sono poche donne sul mercato del lavoro in Italia è anche questo che sono pagate troppo poco per cui che cosa succede? Che quando in una famiglia si crea un problema organizzativo per esempio adesso c'è stato il problema del covid dei bambini in dad e tutta una serie di problemi simili però in realtà questo capita sempre quando si deve decidere di rinunciare a uno stipendio perché uno dei due deve stare a casa per risolvere appunto dei problemi di gestione familiari a quale stipendio si rinuncia? Ovviamente si rinuncia lo stipendio più basso che è sempre quello della donna inevitabilmente no? Tra l'altro se per caso lo stipendio della donna invece è più alto diciamo che in genere i mariti non sono felicissimi di questo eh e quindi che cosa succede? Che le donne sono pagate meno anche per un altro motivo che alle donne viene nel scusate io spesso mi rendo conto che sto guardando per aria però è difficile parlare non vedendovi ecco e le donne sono spesso sottoposte al part time obbligatorio questo capita diciamo nell'ottanta per cento dei casi mentre agli uomini capita solo nel trenta per cento dei casi un part time significa uno stipendio più basso quindi significa contributi più bassi e quindi significa che poi avremo una pensione più bassa e questo spiega perché una pensionata donna ha una pensione più bassa e più povera di un pensionato uomo no? Allora si dirà ma perlomeno le donne fanno figli visto che non lavorano? No neanche quello perché se disgraziatamente fanno figli la loro possibilità di lavorare e di fare carriera si riduce di un altro venticinque per cento per cui abbiamo questo comma ventidue eh che questo è tutto molto italiano per cui le donne finisce che non lavorano e non riescono neanche a fare figli cioè ci sono delle cose che a me mi che io trovo girando sui soprattutto sui sui siti dell'istat dove è pieno di queste informazioni che poi ovviamente vanno decodificate perché se no sono grafici numeri non si capisce niente per esempio sapete che solo la metà delle donne italiane ha un conto corrente personale le altre se benché vada ce l'hanno in comune col marito oppure sapete che il trenta per cento delle donne italiane adulte non parlo delle ragazzine o degli adolescenti che quello è ovvio le donne adulte il trenta per cento dipende economicamente in tutto e per tutto da un uomo che può essere il padre o il marito però non ha nessuna autonomia praticamente deve chiedere la paghetta e a proposito di paghetta sapete che ai ragazzini maschi la paghetta viene data in automatico cioè loro hanno un giorno a settimana in cui i genitori danno loro la paghetta che può essere poco tanto ma loro sanno che quel giorno invece alle ragazzine femmine la paghetta viene erogata a discrezione dei genitori cioè beh vediamo adesso se sarai buona ti do la paghetta se no sta settimana non te la do e quindi già da piccole ci si abitua a questa dipendenza ma ci sono anche altre cose sapete che l'evasore maschio cioè l'evasore tipo scusatemi è maschio e di mezza età questo perché perché le donne sono più oneste certo probabilmente ma soprattutto perché le donne hanno meno gestione di soldi hanno meno soldi e quindi hanno meno la diciamo tentazione di evadere il fisco e non solo sapete che la corruzione praticamente riguarda esclusivamente maschi vedo che sto andando lunga cerco di accelerare riguarda esclusivamente i maschi perché le donne non avendo nessun potere nessuno cerca neanche di comprarsene capito per cui siamo povere anche di fronte alla corruzione abbiamo visto negli Stati Uniti si sta cercando di fare qualcosa in Italia anche vediamo un'altra slide così vi alleggerisco un po' da questa chiacchiera ecco questa è una legge più o meno simile a quella americana che è entrata è stata approvata a fine ottobre in Italia questo è il tweet della parlamentare che l'ha portata che l'ha portata all'approvazione adesso vediamo se questa legge sulla parità salariale e sarà più efficace che quella degli Stati Uniti che dopo 13 anni come abbiamo visto ancora sta per aria se non ci sono altri modi andiamo un'altra foto c'è un altro modo per ottenere una retribuzione adeguata è questo caso qua è un articolo del Corriere della Sera di qualche giorno fa è una top manager ha scoperto di essere pagata meno dei suoi colleghi maschi ha fatto causa e ha ottenuto che il tribunale desse ragione e le facesse avere questo discreto rimborso per i disagi subiti però vi sembra giusto cioè è normale che dobbiamo rivolgerci al tribunale per essere pagate il giusto perché lo dice anche la Costituzione vediamo l'ultimo l'ultimo cartello la Costituzione dice il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e la qualità del suo lavoro attenzione che cosa dice dice il lavoratore non dice la lavoratrice questo perché la Costituzione è stata scritta 70 anni fa 70 anni fa le donne al lavoro erano decisamente ancora meno di oggi poi non c'era ancora l'abitudine alle desinenze no a quindi insomma dice solo il lavoratore però sono passati 70 anni è possibile che ancora non siamo riusciti a ottenere questa parità sia nell'accesso al lavoro sia soprattutto nelle retribuzioni che è uno dei freni per l'accesso al lavoro io adesso non voglio fare i predicozzi a nessuno però io credo che si possa fare qualcosa per rimediare a questa situazione per esempio le aziende dovrebbero imparare a retribuire le persone sulla base del loro valore del loro lavoro non soltanto non fare distinzioni di genere no le donne stesse dovrebbero fare qualcosa dovrebbero acquisire una maggiore consapevolezza dovrebbero non vergognarsi di chiedere di avere una retribuzione adeguata e gli uomini forse dovrebbero imparare che non necessariamente dobbiamo avere la paghetta perché non sempre abbiamo un marito o un padre che ci supporta abbiamo diritto diciamo a una totale indipendenza economica poi vorrei dirvi quali sono le strade migliori per uscire da questo gap però ovviamente non le so se le sapessi probabilmente sarei Presidente della Repubblica e magari mi darebbero un appannaggio minore di quello che aspetta un Presidente maschio però ecco quello che voglio dirvi secondo me questo problema che non è assolutamente conosciuto quando io ne vado a parlare in giro mi dicono no dai non è vero allora io vi dico parlatene parlatene nei vostri luoghi di lavoro confrontatevi col vostro collega con la vostra collega cercate di capire se davvero guadagnate uguale e poi non mi sto dicendo di fare la rivoluzione però di prendere consapevolezza di questo perché io credo che parlare di un problema sia il modo migliore prima o poi per risolverlo questo anche per i nostri figli che magari impareranno di impareranno il modo di farsi pagare tutti uguali ho finito grazie 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 grazie